Ciao, eccomi sull'aereo, sono a Parigi e sto tornando a Malaga e quello che voglio dirti è stimolato proprio da questo viaggio, uno dei tanti viaggi e quello che mi è venuto in mente di condividere con te è proprio questo permettiti di affrontare delle situazioni che ti permettono di sconvolgere di smuovere quelli che sono i tuoi paradigmi, i tuoi schemi per permetterti di andare oltre quello che tu credevi possibile e per permetterti di aprire la tua mente, perché anche la tua mente va stimolata va stimolata con tante cose, ad esempio sono stata stimolata da questo viaggio perché comunque quando tu approdi in una situazione, in una zona in cui ci sono persone in tutti i paesi, persone così diverse, è così interessante anche solo guardarli per immaginare quali sono le loro storie, che cosa li porta a viaggiare che cosa si nasconde dietro questi visi, queste situazioni e quindi semplicemente cerca di trovare nella tua vita anche dei semplici stimoli che ti permettano di aprire la tua mente, di aprire i tuoi orizzonti perché quello che ti permette una mente aperta è sicuramente qualcosa che una mente che è abituata sempre alle stesse cose non ti dà la possibilità di fare, di affrontare e di vivere e quindi anche col lavoro che magari hai l'opportunità di fare insieme con quello che facciamo con le dirette, ai corsi o magari se abbiamo già lavorato insieme anche negli incontri individuali sicuramente puoi fare una strada molto più veloce e molta più strada quando ti permetti di farla con una mente aperta di vedere più possibilità, di essere veloce anche nel tuo pensiero ti lascio con questo stimolo e ti auguro una buona serata ci vediamo domani alla diretta alle 21, ciao!